Dottore, qual è il segreto per il sorriso perfetto? Beh, di certo non andare dal dentista una volta all'anno. No, scherzi a parte, diciamo che avere una buona bocca e una buona dentatura richiede impegno quotidiano e ovviamente giuste tecnologie. Ma ne vale assolutamente la pena. E soprattutto, perché così tanti italiani hanno denti rovinati dopo 50 anni? Perché le protesi dentali tradizionali sembrano false e scomode? Perché un impianto richiede così tanto tempo e visite dal dentista? Ma soprattutto, perché a volte una protesi non sembra integrarsi perfettamente col resto della bocca? Ci sono molte ragioni, ma nella mia esperienza quasi ogni aspetto della salute orale può essere influenzato da due cose. Utilizzare le giuste tecnologie d'avanguardia e affidarsi a soli veri esperti del campo. Mi chiamo Corrado Palmas, potresti conoscermi per il mio popolare canale YouTube dove ho svelato i segreti per una bocca perfetta a ogni età. O forse hai già sentito parlare dei miei esclusivi centri odontoiatrici nell'est Europa. Ma quello che potresti non sapere è che la mia vera passione è aiutare le persone a ritrovare il sorriso smagliante e una rinnovata fiducia in se stessi, specialmente dopo i 50 anni. Questo video è la mia guida completa che ho creato per te su come fare i denti di fascia alta che possono rivoluzionare il tuo sorriso permettendoti di tornare a mangiare i tuoi cibi preferiti. Parlare e ridere senza imbarazzi e sentirti di nuovo bene con te stesso indipendentemente dalla condizione attuale della tua bocca e credimi so quanto possa essere frustrante e imbarazzante avere problemi ai denti. Nella mia carriera come odontoiatria sia in Italia che all'estero e come ricercatore ho visto innumerevoli pazienti che hanno letteralmente perso il sorriso a causa di cure inadeguate o antiquate fuori dai protocolli o dell'Antico Testamento. Eppure, anno dopo anno, i problemi dentali continuano ad affliggere milioni di italiani e europei, soprattutto nella fascia over 50. Sai che in Italia ben il 60% delle persone tra i 65 e i 74 anni ha perso quasi tutti i denti naturali? È un dato allarmante. Purtroppo la situazione non sembra migliorare. Dopo aver studiato a fondo questo fenomeno con alcuni dei migliori esperti mondiali in odontoiatria sono giunto a una conclusione ben precisa. Il problema sta nella tecnologia utilizzata. Vedi, la maggior parte degli impianti e delle protesi dentali sono realizzati con metodi arcaici e poco precisi. Un esempio lampante sono i denti finti in ceramica. Sebbene possano apparire bianchi e brillanti all'inizio tendono a scheggiarsi e ingiallirsi nel tempo, diventando evidenti a tutti. E che dire delle vecchie dentiere in resina? Risultano goffe e instabili, rendendo difficile compiere semplici azioni come mangiare, parlare, insomma le soluzioni classiche lasciano molto a desiderare. Un altro grave problema sono le tecniche antiquate di progettazione e inserimento degli impianti. Spesso si ricorre ancora a impronte in gesso, misurazioni manuali, aggiustamenti a occhio che lasciano ampio margine di errore. Il risultato? Impiatti mai integrati, poco funzionali, che si perdono. Nel peggiore dei casi possono danneggiare l'osso mascellare e causare gravi infezioni. E non dimentichiamo i tempi biblici, tra visite, valutazioni, impronte, installazione e recupero possono passare mesi o addirittura anni. E nel frattempo il paziente deve arrangiarsi con soluzioni posticce e fastidiose. O peggio, rimanere a bocca scoperta. Questo non solo crea enormi disagi, ma può avere serie ripercussioni sull'autostima e la vita sociale del paziente. Ma c'è di peggio. Sai cosa accade? Quando un impianto viene inserito male o realizzato con materiali scadenti, protesi fatte con materiali scadenti, si può verificare un processo chiamato per implantite, ovvero un'infezione dei tessuti. Questa non solo compromette la riuscita dell'impianto stesso, ma può portare infiammazioni diffuse, sanguinamento gengivale, fino alla perdita dell'osso. Una vera catastrofe per la salute della tua bocca. E la cosa assurda è che spesso i pazienti neanche si accorgono di queste complicazioni, finché non è troppo tardi, perché inizialmente non provocano dolore. Purtroppo questi problemi sono fin troppo comuni con gli impianti tradizionali, soprattutto se eseguiti senza le dovute precauzioni o da personale poco qualificato. Quindi qual è la soluzione? Come puoi avere il sorriso che meriti in modo rapido, indolore e senza correre tutti questi rischi? Beh, la risposta è semplice. Scegliendo impianti high-tech di fascia alta, realizzati su misura per te, con protesi anch'esse di fascia alta, interamente realizzate col digitale, da un team di esperti che fanno solo questo tutti i giorni da tanti anni. Dopo aver sperimentato in prima persona tutti i limiti dell'odontoiatria tradizionale, ho capito che era il momento di cambiare radicalmente approccio. Così ho deciso di creare un protocollo innovativo, un sistema che risolvesse alla radice i problemi degli impianti dentali classici e delle protesi scadenti. Ho riunito un team di ingegneri, odontotecnici, ricercatori di fama internazionale, con un unico obiettivo, rivoluzionare il mondo dell'implantologia. È così che è nato il sistema bocca bionica, l'avanguardia degli impianti dentali su misura. Niente più impronte fastidiose, niente più aggiustamenti imprecisi, niente più attese infiniti e niente materiali dell'Antico Testamento. Al loro posto un processo completamente digitalizzato, che sfrutta le ultime tecnologie di scansione 3D, software di modellazione avanzati, e intelligenza artificiale e produzione robotica di altissima precisione. Bocca bionica è l'impianto perfetto per chiunque desideri un sorriso impeccabile. Denti ultra resistenti, una masticazione potente e una completa naturalezza sia nell'aspetto che nelle sensazioni. Ogni singola protesi col sistema bocca bionica viene progettata e fabbricata su misura, in base alle esatte caratteristiche del tuo viso e della tua bocca. Questo significa che l'impianto e la protesi si integreranno alla perfezione con la fisionomia del tuo viso, risultando del tutto naturali e praticamente indistinguibili dai denti veri. Non solo, le nostre protesi sono realizzate con i migliori materiali biocompatibili disponibili sul mercato, perfettamente tollerati dall'organismo. Niente più fastidiosi allergie o infiammazioni. Il cuore del nostro sistema bocca bionica è il nostro esclusivo software di intelligenza artificiale, che analizza nel dettaglio la struttura del tuo viso, l'occlusione dei denti, la forma delle gengive e molti altri parametri. Sulla base di queste informazioni il sistema è in grado di generare un modello 3D perfetto dei tuoi denti, individualizzato al 100% per te. A quel punto entra in gioco la nostra divisione ricerca e sviluppo integrato, una vera e propria eccellenza a livello europeo. Qui i tecnici altamente specializzati trasformano il modello virtuale in una protesi reale, utilizzando macchinari di fresatura e stampa 3D di ultima generazione. Il risultato sono impianti e protesi super precise, che si adattano come un guanto alla tua bocca, creati con materiali di alta qualità, ultra resistenti, dalle performance elevatissime, praticamente indistruttibili. Guarda Marco, 52 anni, venuto da noi dopo ben tre chirurgie fallite. In un solo giorno abbiamo sostituito i suoi vecchi impianti con delle nuove protesi realizzate col sistema bocca bionica. Ed ecco il risultato. Ora ha un sorriso a prova di red carpet, denti perfettamente funzionali, integrati con il suo sorriso. Marco ora può tornare a mangiare ciò che vuole senza pensieri. Oppure Carla, 72 anni, che ha detto addio alle sue scomode dentiere mobili, optando per i nostri impianti fissi col sistema bocca bionica. Ora finalmente ha ritrovato la gioia di parlare e sorridere in pubblico senza imbarazzi. I suoi nuovi denti sono perfettamente stabili e dall'aspetto assolutamente naturale. E poi c'è Simone, appena 45 anni, che a causa di una grave parodontite stava perdendo tutti i denti. In un'unica seduta abbiamo ripristinato l'intera bocca con protesi col sistema bocca bionica, salvando da un calvario di dolore e imbarazzo questo ragazzo. Oggi Simone si sente quasi rinatto. Risultati come questi mi riempono di orgoglio e mi spingono ad andare avanti nella mia missione. Permettere a sempre più persone di ritrovare un sorriso perfetto e una rinnovata gioia di vivere. Lo so, starei pensando, ma quanto costa avere un impianto e dei denti così avanzati? Meno di quello che immagini. Grazie alle tecnologie digitali che snelliscono molti passaggi e grazie al nostro divisione ricerca e sviluppo interna, siamo in grado di offrire il nostro sistema bocca bionica a prezzi inferiori fino al 50% rispetto alla nazione dove vivi, addirittura delle volte anche fino all'80%. Potrai avere un nuovo sorriso perfetto e duraturo. Il tutto in un'unica soluzione, senza costi aggiuntivi per ogni seduta. E la parte migliore, col sistema bocca bionica, il tuo investimento è protetto da una straordinaria garanzia vita. Esatto, hai capito bene. Se per qualsiasi motivo il tuo impianto dovesse danneggiarsi, non soddisfarti a pieno, sarò felice di intervenire per sistemarlo e sostituirlo, anche a distanza di 10, 20 o 30 anni. Questo è il mio impegno personale verso il tuo sorriso perfetto. I posti disponibili si stanno esaurendo velocemente, quindi non perdere l'occasione di fare questo primo passo verso una bocca completamente nuova. Prenota ora la tua consulenza gratuita, chiama il numero che trovi qui sotto, compila il modulo online. Siamo pronti ad accoglierti e a guidarti verso il sorriso che hai sempre sognato, perché tu meriti il meglio, meriti di tornare a sorridere senza esitazioni e apprezzare a pieno ogni momento della tua vita. Non lasciare che i problemi dentali ti limitino un istante di più. Agisci ora, il tuo nuovo sorriso ti sta aspettando. Un saluto da Dottor Palmas.